buongiorno buongiorno ragazzi oggi andiamo a vedere una variante più difficile del pike press con la swissball lo slide pike press esercizio ideale perché oltre a rinforzare i muscoli del corpo e i muscoli delle spalle dove andremo a lavorare sul pike press con la swissball andiamo a rinforzare anche i muscoli di tirata e dà un ottimo transfert per quanto riguarda la bracciata nel nuoto come si esegue un esercizio ci posizioniamo sulla palla piedi sulla palla mani bene in appoggio a terra partiamo dalla nostra posizione di plank da questa posizione andiamo in slide dietro quindi teniamo bene l'addome contratto spingiamo forte con le braccia e andiamo in pike press quindi andiamo a scivolare dietro e scivolare su tenendo sempre l'addome contratto scivolo dietro scivolo su scivolo dietro e scivolo su questo esercizio è bello intenso è anche ottimo per migliorare le tue capacità coordinative e l'equilibrio che ti permetterà di rinforzare anche i muscoli di tirata cosa devi fare ora è mettere in pratica l'esercizio farmi sapere come ti sei trovato quali sensazioni hai avuto e che vantaggi hai ottenuto inserendolo nei tuoi allenamenti noi ci vediamo nel prossimo video ciao e stai con me